Benziema il gesto romantico dopo la vittoria del Real invie fiori a tre donne diverse. Ma c'è una ragione. San Valentino, il campione francese Karim Benziema si è dimostrato un vero e proprio gentleman durante la festa degli innamorati. Il gesto, realizzato dal pallone d'oro, è stato quello di spedire delle rose a tre donne diverse durante la celebre ricorrenza che festeggia l'amore. I fiori, non erano per delle persone banali, bensì per, la sua attuale compagna. La madre di suo figlio ed ex partner e la madre di sua figlia ed ex moglie. Le foto social delle ragazze e l'azione di Karim. Non è passato inosservata, poiché le destinatari delle rose non hanno perso l'occasione di pubblicare tramite una storia Instagram il gesto realizzato dal calciatore delle Real Madrid, che intanto si sta allenando al massimo in vista delle prossime gare che lo vedranno protagonista. Virgola.